Salve a tutti! Eccoci qui oggi a commentare gli aspetti di Sole con Marte. Aspetti positivi, aspetti negativi o per meglio dire aspetti difficili, aspetti facili. Allora, cominciamo. Quando Marte è in aspetto difficile, la manifestazione della persona è ostacolata da un comportamento o da un'esposizione verbale frettolosa a tratti brusca o aggressiva che può snaturare completamente il gesto che la persona si proponeva di portare a termine. Quindi diciamo che questo gesto, queste parole, sono connotate da un eccesso di assertività che degenera in aggressività. Quindi chi riceve queste parole o queste azioni percepisce una tensione verso l'aggressione nei propri confronti. Aspetto facile che si verifica quando c'è un trigonus e stile o quando un aspetto difficile è già stato da noi lavorato, integrato, sistemato, acconciato. Ditelo come volete, però ci abbiamo lavorato sopra. Allora, la manifestazione della persona si avvale di assertività, energia ed entusiasmo verso il raggiungimento dello scopo e tutto ciò le dona una grande forza d'impatto sugli altri e la capacità di condurre le persone. Come abbiamo visto già in altri aspetti, vi rendete conto che in realtà si tratta di avere il sole, la propria essenza, che va più o meno d'accordo con quell'altro principio, quello di Marte, che è il portare avanti con forza ed energia le cose. Tanto più l'essenza, cioè il sole, riconosce il diritto ad esistere di Marte, tanto più questo Marte riesce a essere declinato come entusiasmo ed assertività piuttosto che come aggressività e sopraffazione. Tanto meno il sole riconosce il diritto all'esistenza di Marte, tanto più Marte, quando sfugge al controllo del sole, per meglio dire, si esprime in maniera aggressiva, perentoria eccessiva ed esagerata. Quindi qui, come negli altri casi di aspetti difficili, si tratta di integrare questa parte, cioè Marte, nell'essenza che è il sole, in maniera che il sole si permetta di essere entusiasta e trascinatore. Tanto più riesce a far questo, tanto più ottiene successo e le persone che lo seguono spontaneamente perché il suo entusiasmo è proprio traccimante e, come dire, contagioso, assolutamente. Vi ringrazio anche per oggi e alla prossima. Salve a tutti! Grazie a tutti!